Buongiorno da Edo, anzi dovrei dire più che altro buon pomeriggio visto che questa roba la pubblicherò nel pomeriggio perché sto registrando in pausa pranzo ma ci tenevo a farla perché è una settimana che non ci sono come avete fatto? Come avete fatto a rimanere informati sulle notizie del mondo tech, del mondo IT senza il buongiornissimo? Siete andati su X, vero? Ammettetelo che siete andati su... avete aperto X, non dovete aprire X lasciatelo, è andata, lasciatelo andare via è una cosa ormai... processate questa perdita e lasciate andare X e Elon Musk per quello che vogliono fare, non va... fine, è chiuso ci sono altre... andate su Mastodon, su Reddit, oggi parleremo di Reddit sì, oggi ho voluto fare una combo Reddit-Redis perché... per assonanza però in realtà potrebbe esserci qualcosa che... un Phil Rouge che lega queste due notizie che vi darò oggi che recupero appunto la settimana scorsa che ho passato alla CubeCon naturalmente sono tornato dalla CubeCon con un sacco di magliette questa è una che tra l'altro si lega anche alle news di oggi perché ormai io sono un pro e qualche gadget, un sacco di calze anche questi... ho preso anche questo... è dado a... boh... 24 facce di... per giocare a D&D non puoi giocare a D&D perché c'è una faccia che è una... che è un loghetto che è sbagliato però potete usarlo per fare le stime quando vi chiedono le stime delle storie vedete... quanto... quanto è complessa questa storia? 1! questa è semplicissima, è uscita... è uscita facile, vedi? dice no, non può essere, è troppo facile, rifacciamo allora 10! va bene, 10 passiamola a passare sto scherzando ovviamente, fate i bravi con le vostre stime perché poi vi si ritorcono contro quindi state molto attenti comunque vabbè, se vi va domani alle 13.30 ritorno in live sempre sui canali YouTube quindi magari potremo parlare un po' di CubeCon, chiacchierare di cosa è stata magari anche qualcuno di voi c'è stato ci scambiamo un po' di impressioni, mi farebbe piacere quindi alle 13.30 live su YouTube parliamo un po' di quello e poi leggiamo qualche altra notizia che naturalmente per un'intera settimana si sono accumulate me ne è scappata qualcuna approfitto di una live per leggerle basta, questa è un po' la mia introduzione quindi news del giorno allora le due news di oggi facciamo un po' di riassunto e di sintesi quindi puntata un pochino più corta spero per la gioia di molti soprattutto della mia perché poi devo pranzare allora la prima riguarda Reddit che diventa, come si dice, public, pubblica non nel senso che è stata diventata un'azienda pubblica no, è un'azienda quotata in borsa si è quotata al NISE cioè il New York Stock Exchange la borsa di New York una delle borsa di New York cercava una valutazione di 34 dollari per azione in realtà poi al momento della quotazione il suo valore è salito di molto a un certo punto è arrivato a più del 70% del valore quindi ha toccato i 48 dollari per azione portando la capitalizzazione totale a 7,6 miliardi di dollari e ha raccolto dagli investitori circa 750 milioni di dollari da questa IPO quindi da questa quotazione pubblica naturalmente adesso Reddit deve trovare un modo di essere profittevole per i suoi investitori generare dei guadagni per i suoi investitori e non è cosa facile pensate che Reddit che ha una storia lunghissima ovviamente nata nel 2005 non è mai stata inattivo cioè non ha mai portato un profitto alla compagnia e ai suoi investitori naturalmente questa roba non ha mai fermato nessuna compagnia su internet però insomma adesso che ci sono degli azionisti magari si vorrà vedere qualche guadagno infatti quando un'azienda presenta i suoi documenti alla SEC che è l'autorità americana che vigila appunto sulla finanza per essere quotata in borsa deve presentare dei documenti così si vedono appunto le sue revenue quindi i suoi ricavi e poi anche le sue perdite gli accordi eventuali accordi commerciali più grossi insomma così poi gli investitori possono vedere se valga la pena investire ecco in questi documenti viene fuori che l'ultimo anno quindi nel 2023 il totale delle delle revenue dei ricavi di Reddit è stato di 804 milioni di dollari e però c'è una perdita netta di 90 milioni di dollari quindi vedete non è assolutamente arrivata in pari né in guadagno questa cosa dovrà in qualche modo cambiare infatti ci sono già degli accordi con alcuni insomma degli accordi commerciali con alcune aziende per esempio l'accordo con Google di 203 milioni di dollari per concedere in licenza i contenuti di Reddit a insomma l'intelligenza artificiale gli LLM di Google che faranno scraping di questi contenuti pagando insomma una fee a Reddit per il permesso di farlo o non che gli altri LLM non lo facciano già comunque infatti nei documenti che ha presentato la SEC Reddit proprio ammette che in realtà i suoi dati sono in tutti gli LLM e non tutti anzi la maggior parte non ha un accordo commerciale con Reddit per avere queste informazioni però in qualche modo ha trovato un modo per accordarsi con Google e fargli pagare il fatto che Google accede a questi dati poi con alcuni insomma accordi un pochino più precisi per esempio il fatto che Google può fare scraping in tempo reale sapete che Reddit ha un limite alle sue API e poi ogni tot di tempo Reddit manda una quantità di dati a Google stesso che poi gli inserisce nei suoi LLM naturalmente questo non ha fatto storcere un po' il naso ad alcuni utenti di Reddit perché naturalmente questi sono tutti i contenuti che gli utenti generano tra virgolette gratuitamente li donano a questa piattaforma la quale poi li vende a queste aziende tipo Google per poi incassare dagli LLM e li usa anche per le sue pubblicità però naturalmente sappiamo benissimo che quando noi creiamo dei contenuti su un social network qualunque esso sia questi diventano la materia prima con cui il social network poi fa soldi e per Reddit comunque non è facile fare soldi perché Reddit è un po' strano rispetto agli altri social network adesso per chi magari non ha bene dimestichezza con Reddit Reddit è un po' una via di mezzo tra un forum e un social network moderno nasce nel 2005 e sta ancora un po' diciamo a metà tra la vecchia internet e la nuova internet gli utenti di Reddit sono tutti utenti o quasi la grande maggioranza sono utenti anonimi i post si fanno in questi subreddit che sono come dei subforum ognuno riguarda un tema specifico il post può essere un post di testo o un link oppure multimediale come un'immagine e un video e ognuno di questi post genera un thread a cui poi altri utenti collaborano mettendo i loro commenti che generano altri sub thread e funziona un po' così poi ogni post e ogni commento può essere votato con un up quindi una freccia in su o una freccia in giù down e man mano che si dicevano up appunto il punteggio di un post o di un commento aumenta e questo galleggia verso l'alto quindi portando i contenuti più votati diciamo in su poi ci sono altre meccaniche emerse in questi anni in Reddit alcune un pochino monetizzabili da Reddit stesso però il grosso della monetizzazione di Reddit arriva dall'advertising dalla pubblicità e a proposito ci sono alcuni alcuni cambiamenti all'advertising che Reddit adesso sta facendo proprio per essere più attrattivo nei confronti degli advertiser e per i suoi investitori e una di queste è la possibilità che darà Reddit agli advertiser di creare dei post sponsorizzati cioè dei post che vengono creati dagli advertiser nella classica dashboard per creare pubblicità ma creando appunto dei post che saranno in tutto e per tutto identici ai post creati dagli utenti ma appunto sponsorizzati quindi avranno anche una serie di un valore molto grosso in termini di engagement proprio per l'advertiser che li crea questi post dovrebbero a quanto si capisce essere sponsorizzati cioè avere una label che dica che sono post appunto sponsored a pagamento però naturalmente questo anche ulteriormente non piace tantissimo agli utenti di Reddit è un Reddit è un social network un pochino anarchico come lo poteste immaginare quindi per chiudere Reddit adesso è un'azienda quotata in borsa è quotata al Nise il suo simbolo è RDDT se volete potete acquistare le azioni di Reddit come molti dei suoi anche utenti hanno fatto insomma Reddit poi ha fatto una piccola campagna in cui cercava di convincere gli utenti a investire proprio nelle azioni di Reddit e adesso vedremo un po' cosa succede naturalmente si spera che non entri in un processo di ancientification però qualcosa dovrà cambiare perché ai suoi investitori dovranno arrivare appunto dei buoni motivi per continuare a investire in Reddit quindi dovrà fare soldi e la seconda notizia riguarda Redis vedete l'assonanza ma non solo c'è anche questo processo di non dico ancientification in questo caso però di presa di consapevolezza dell'azienda che a un certo punto anche nella landa meravigliosa del web e soprattutto in questo caso dell'open source devono trovare dei modi per essere profittevoli perché devono rispondere ai propri investitori è il caso di Redis che insomma ha fatto una mossa alla HashiCorp o alla MongoDB diciamo cioè ha cambiato la licenza dei propri prodotti quindi dal suo annuncio ufficiale si vede che a partire dalla versione Redis 7.4 Redis avrà una doppia licenza alcuni moduli saranno disponibili con la Redis Source Available License quindi RSAL V2 e altri saranno con la Server Side Public License SSPL che è una licenza che già conosciamo una licenza che ha adottato MongoDB e altri software che hanno fatto questo cambiamento ora Redis aveva già fatto un cambio di licenza nel 2018 e già era stato abbastanza criticato infatti era passato appunto dalla BSD mi pare alla Redis Source Available License e adesso appunto va ad abbracciare la SSPL la SSPL è una licenza che diciamo non è considerata licenza open source proprio dalla Open Source Initiative in pratica è una licenza che deriva dalla AGPL cioè la Affair o General Public License ma modifica in maniera sostanziale alcuni passaggi che la rendono di fatto poco utilizzabile in ambiente open source perché come dice il testo lo possiamo leggere se rendi una funzionalità del programma o una sua versione modificata disponibile a una terza parte come service che è il caso di Redis che naturalmente è un database as a service in pratica ecco devi rendere tutto il codice sorgente del servizio disponibile per il download a chiunque tutto il codice della tua infrastruttura a chiunque lo richieda se tu offri il servizio appunto in una forma di SaaS ecco questa roba qua naturalmente è difficile da poterla rispettare per molti che offrono il servizio di Redis o di altri che hanno scelto questa licenza infatti non è praticamente applicabile quindi l'unico modo per fornire Redis come servizio è quello di adottare la sua licenza commerciale quindi pagare una fee a Redis e questa è la stessa modalità che stanno appunto offrendo MongoDB Elasticsearch e gli altri quindi bisogna pagare una licenza commerciale e poi a questo punto si può offrire il servizio senza dover poi far scaricare tutto il codice sorgente naturalmente questa licenza commerciale poi è soggetta a cambiamenti da parte di chi quella licenza quel software lo mantiene quindi potrebbero anche essere cambiamenti di prezzo immediati improvvisi difficili da sostenere insomma con tutti i problemi che questo può causare cosa può succedere in questi casi che la community forca e crea un altro software identico al software precedente con le stesse funzionalità però mantenendo la licenza open source che aveva il software in questo caso BSID ma potrebbe essere la Apache license come nel caso di OpenTofu che è afforcato da Terraform e in quel caso poi la community si prende in carico l'honor di gestire questo processo questo progetto mentre il software da cui si deriva dovrà gestire in qualche modo la propria parte commerciale e la propria parte open source community AshCorp in questo non se la sta vivendo proprio benissimo però insomma questa è un po' la situazione e infatti anche in Redis questo intanto è l'annuncio ufficiale dell'adozione di questa dual source license e arrivano anche i fork infatti The Stack ci dice che stanno arrivando un po' di fork di Redis vi segnalo i più interessanti c'è Madeline Olson di AWS che assieme a un engineer di Alibaba Cloud che è ZaoZao e inoltre altri maintainer di Redis ah Madeline Olson è una maintainer di Redis una sviluppatrice di Redis ecco assieme appunto ad Alibaba Cloud e ad altri maintainer di Redis hanno creato un fork eccolo qui si chiama Placeholder KV per adesso ma forse poi cambierà nome insomma questo è proprio un fork 1 a 1 di Redis e adesso naturalmente bisogna vedere cosa faranno AWS e Alibaba Cloud che hanno tutto l'interesse a non pagare fee commerciali a Redis pur offrendo magari servizi che si basano su Redis o contengono Redis però ufficialmente ancora non si sono espressi quindi questo fork non è un fork ufficiale di AWS o Alibaba Cloud ma insomma ci stanno lavorando dei loro engineer e l'altro fork interessante è quello di Drew DeVolt Drew DeVolt lo conoscerete un un grande un programmatore insomma un storico programmatore anche attivista dell'open source ha creato Source Hat ha creato WL Roots altri progetti open source è anche un blogger molto prolifico insomma anche lui ha creato un fork di Redis l'ha chiamato Redict ecco qua il repo come vedete non sta su GitHub sta su un sta su Codeberg che è un gestore di repository insomma non closed come invece è GitHub è un gestore open source anche qui Drew DeVolt come vedete è molto opinionato ecco quindi ha scelto tutto uno stack open source per creare pubblicare distribuire Redict e quindi su Codeberg trovate appunto anche questo questo fork mantenuto per ora da Drew DeVolt quindi siamo almeno a due fork di un certo livello ecco di Reddit ma non solo c'è anche un'alternativa open source totalmente open source a Redis che è Garnet spero che si pronunci così o Garnet Garnet non lo so comunque è creata e mantenuta da Microsoft in realtà esiste già da un po' è anche già usata in produzione su Azure e permette ai client a Redis di comunicare con un'istanza in back-end appunto di Garnet perché utilizza lo stesso protocollo RESP che mi pare significhi Reddit Service Protocol o qualcosa del genere vabbè comunque è un è un protocollo con cui i client Reddit possono comunicare con il server e quindi sfruttando mantenendo lo stesso protocollo switchando server da Redis appunto a Garnet mantenendo lo stesso client in teoria rimane la stessa la stessa infrastruttura la stessa applicazione può rimanere invariata quindi in teoria è un drop-in replacement dovrebbe essere un drop-in replacement per Reddit e c'è qua il codice sorgente su GitHub naturalmente Microsoft slash Garnet o Garnet insomma e dovrebbe anche questo essere un'alternativa one-on-one abbastanza drop-in per per Redis tra l'altro il creatore di Garnet adesso trovo il suo nome è questo tizio qui eccolo qua Chandra Muli badrish Chandra Muli che non è un tizio qualunque è un tizio che fa parte di Microsoft Research e ha già lavorato parecchio con prodotti di questo tipo infatti ha lavorato a Azure Stream Analytics ha rilasciato Faster ha rilasciato Fish Store insomma sono tutti prodotti che riguardano gli open storage il querying di grandi stream di dati insomma è uno che sa bene come si fa a lavorare con database oggetti stream di dati insomma prodotti di questo tipo quindi se lui è alla capo di questo di questo prodotto insomma c'è abbastanza da fidarsi è comunque un prodotto usato in in produzione tra l'altro ci sono dei benchmark ufficiali insomma rilasciati da Microsoft che dimostrano come Garnet sia molto più veloce di Redis e delle alternative che già esistono a Redis come Dragonfly e KDB ma naturalmente i benchmark vanno sempre un po' presi con le pinze nel senso che poi bisogna vedere in che condizioni sono stati presi se sono stati cerripiccati eccetera eccetera però insomma anche questo segnatevi come possibile alternativa se non vi piace più il nuovo corso di Redis ecco come alternativa abbastanza one on one c'è Garnet o Garnet insomma di Microsoft quindi abbiamo tre possibili alternative che vi do che vi butto oggi due sono fork di Redis uno si chiama placeholder KV quindi placeholder KV creato e mantenuto da engineer di AWS e di Alibaba Cloud l'altro è Redict creato da Drew DeVault e il terzo è Garnet che è un prodotto invece di Microsoft open source tra l'altro la licenza di questo è MIT MIT license quindi molto anche molto permissiva e quindi insomma Redis adesso dovrà combattere anche con questa ondata di rivali che invece rimangono fortemente open source offrono licenze open source e bisognerà vedere un po' quale sarà la sua storia futura open tofu sta andando molto bene quindi questi fork si poggiano anche sull'esperienza di open tofu che è stata finora piuttosto positiva e invece vediamo cosa sarà di Redis ho provato a cercare delle reazioni a questa notizia dal creatore originale di Redis Salvatore Sanfilippo non mi pare che abbia espresso insomma pubblicamente alcuna alcuna opinione per ora quindi non so che cosa pensa Sanfilippo di questo cambiamento non è più in azienda in Redis lui però insomma non si è ancora espresso quindi aspettiamo eventualmente sicuramente arriverà prima o poi una sua forse ci sta pensando pensare di scrivere magari un post sul suo blog insomma aspettiamo quando uscirà sicuramente ve ne darò conto intanto questa era la seconda notizia che volevo darvi Redis possiamo considerarlo non più open source in qualche modo allora prima di chiudere due link sono tutte e due autoreferenziali quindi portate pazienza però potrebbero interessarvi anzi spero che vi interessino il primo vi interessa soltanto se siete di Bologna o dintorni perché vi annuncio che è rinato ufficialmente Pug Bologna Pug originariamente stava per PHP User Group adesso l'abbiamo allargato diciamo ora è Programmer User Group è appunto un meetup è un meetup vecchio stile quindi ci si ritrova da qualche parte in uffici di aziende tipicamente e si parla di codice di open source di cose che ci piacciono che ci interessano la cadenza sarà periodica adesso non sappiamo bene però c'è un primo evento quindi le notizie sono due in realtà che il Pug Bologna rinasce con il supporto naturalmente di Grusp stiamo sempre nella galassia Grusp con questo con questo evento rinasce e c'è un primo una prima data un primo appuntamento un primo meetup che sarà il 18 aprile alle 6 e mezza quindi alle 18 e 30 nella sede di Zanichelli in Vernere Bologna quindi se siete di Bologna o se siete insomma se potete raggiungere facilmente Bologna ecco il 18 aprile alle 6 e mezza c'è questo primo evento che si intitola Software Supply Chain Security cos'è le minacce i tool e il ruolo di OpenSSF e a aprire insomma le danze con questo talk sarò proprio io cioè farò io questo talk parlerò un po' di questo tema che mi sta naturalmente molto a cuore come anche maintainer perché forse non ve l'ho detto ma sono maintainer assieme a Simone Simone Gentili di Pug Bologna quindi abbiamo trovato questo evento questa location e ho deciso di lanciarmi con il primo talk e se volete appunto andate su meetup.com poi vi lascerò questo link e segnatevi sono aperte da ieri sera le iscrizioni c'è un massimo di 50 partecipanti quindi insomma segnatevi se vi va è solo in presenza quindi dovete venire lì fisicamente se volete insomma se riuscite ci vediamo lì ripeto il 18 aprile alle 6 e mezza per parlare di software supply chain security l'altro link che vi do è invece del blog della CNCF quindi Cloud United Computer Foundation però l'abbiamo scritto noi è un blog è un guest blog scritto da Spark Fabric che parla di Cyber Resilience Act non so se ve lo ricordate sono un po' di update si chiama proprio CRA Update the open source community has been listed too perché riporta un po' gli ultimi aggiornamenti che sono stati fatti proprio al Cyber Resilience Act ascoltando le community open source quindi le varie foundation anche gli individuali insomma i contributi individuali insomma tante persone che si sono espresse per dire alla comunità europea che insomma il CRA non era esattamente scritto benissimo sarebbe stato un po' problematico e li hanno ascoltati ci hanno ascoltato diciamo mi metto in mezzo pure io con un po' di opera di advocacy ecco e hanno effettivamente cambiato le cose e ora il testo che ne è uscito è effettivamente molto più aderente ai nostri principi principi dell'open source ne avevamo già parlato in realtà questo blog post insomma riassume un po' questi cambiamenti quindi ve lo consiglio sta sul blog di CNCF e vi lascio come sempre il link in descrizione grazie a tutti per avermi ascoltato spero che sia stata una puntata piacevole anche questa anche su un pochino più veloci noi ci vediamo domani alle 13.30 in live e spero anche con una puntata del buongiornissimo così per aprire bene il mercoledì alla prossima ciao